Ok, io sono Mattia, ho dato una mano ai ragazzi di Gengisvan nell'organizzazione dei loro eventi perché credo nel loro progetto, sono un team più che valido di persone capaci e competenti. Il Mongolia Chaliti Rally è un viaggio in macchina che parte da Roma e arriva fino a Ulaanbaatar, che è la capitale della Mongolia. Il rally è organizzato tutti gli anni da una onlus inglese che si chiama GoHelp e ha come obiettivo quello di finanziare progetti di istruzione e di sanità in favore della popolazione mongola. Beh, la cosa sicuramente che ha stupito lavorando con voi è che persone che non venivano dall'ambiente dell'eventistica riuscissero comunque con le loro capacità, la loro professionalità a tirare fuori un prodotto di qualità sia musicalmente parlando che anche a livello di pubbliche relazioni. Il 19 sera i ragazzi di Gengisvan saranno a birretta a Piazza Mancini per finanziare il loro progetto e accompagnare la serata ci sarà musica dal vivo e DJ set, birra artigianale e gnocchi fatti in casa. Allora, il Mongolia di Ciaritirelli, il Mongolia Ciaritirelli è un viaggio in macchina ad Aron. Sì, è importante che non appaio più coglione di quello che suona. Non venderò mai più un evento dopo uno scendere. Cioè, eh, quindi tu organizzi un evento che cazzo è? Satti che scenderai un evento alla fine.